Cigata Interessante, interessante Comunque quello era Griffith, eh E' come sarebbe dovuto finire Berserk Griffiths muore Oh! Marculis Saruman Children Picchia Cioè potrei bloccato Ok Che cos'ha qualcosa? As the queens do Would you give in to them? Oh! Che merda! Facciamolo Facciamolo Mi sto prendo screen a manetta Qui si vede parecchio il lavoro che ho fatto M Silenzio E Scheletri Mh Che merda Cos'è questa cosa? Uncharted 2? Chi? Chi? Chi sta mentendo? Ok Ok Ho distrutto il ghiaccio Non lo fare Non lo fare Non lo fare No Sono in mezzo agli scheletri Si è rotta una gamba Oh C'è un osso conficcato nella gamba Ah Cazzo Che cosa è Tomb Raider? Creature strane Tomb Raider Attenti gli scheletri per terra ragazzi Io vi dico solo questo Posso correre Ah E allora di te merverò Questo è Ai ai Ah Se l'è torto Attenzione scheletri per terra eh Yes Guardate bene Epiche Perché Ok Che cosa? L'hai visto? Si ho visto Che cosa sono? Quale cose? Creature Orokin secondo me Può essere Nito sei tu? No! Ok no Mi appresso di nuovo Alla fine Che cazzo è quale cosa? Eh Un Palletorica Si dovrebbe allontanare così Si può saltare raga Si Però non te lo dico il gioco Si può saltare due metri tipo con una gamba rotta Come ti vuoi distruzione? Come ti vuoi distruzione? E vabbè mi ha presso sulla roccia Si pure a me prima Ho capito So davvero l'asso degli sviluppatori quella Secondo me Ci sono già morto una decina di volte Che cazzo Che cazzo Ma che cazzo c'è lì? Ma corre un cifro? Ok Non so però se ci si arriva laggiù comunque Torna tipo all'inizio Torna indietro Eh torna indietro di nuovo Devo aspettare che vada nel punto più lontano Si infatti È l'unica Ma ce l'ho accanto No ma ero sulla roccia Ma Cristo E dove mi ha preso? Dai Dai Si vabbè ma potevano metterla un poco più vicino quella la Corri 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 Ok Ce l'hai fatta? Si si ce l'ho fatta Quando si è lontana abbastanza Aspetta un attimo che ce la facciamo pure noi che sta parte secondo me richiede più tempo di tutta la vita Per costruirsi insieme Uuuu Ci ha dato questa cosa Ma secondo me ci deve essere un altro modo per farlo E ho fatto tipo un giro sulla sinistra all'inizio Sulla destra Eh vabbè mi ho preso di **** C'è più roccia Devo essere meno impaziente Scendatevi su uno spettore che se ne va proprio Ah Fu strada Fu strada Sai magari Poi vedi poi vedi Aspettaci ora Non posso raga non posso Non posso Non ho detto che è una persona mala Assolutamente so più fast di voi mo C'è un video C'è un video In cui tu queste Anche roccia a poco fa No ho sentito roccia No ho sentito roccia Vabbè io carico tutto poi Vabbè Mi manderete la postale a casa qua Esatto Qua sono ossa o sono Sembrano delle gabbie toraci Ok Ce l'ho fatta qua No Questi sono dei tè No Ah Shut up Arame Deve andare avanti Shut up almeno Hold Control And tap space To dash Ok ce l'ho fatta Che senso dash Ah così Che sono questi Che coso Che cosa Che cosa